Allora siamo qui oggi 18 giugno a Livorno, Essere Animali, l'AV e il Posi per chiedere all'amministrazione del carcere di Gorgona e alle autorità competenti, in primis il Ministro di Giustizia, di riprendere il progetto Gorgona che è stato abbandonato oltre un anno fa, progetto che consisteva nell'immaginare e anche nel realizzare una diversa convivenza sull'isola carcere tra detenuti e animali che i vi vengono allevati. Dopo anni in cui gli animali sono stati allevati e accuditi dai detenuti e poi mandati come tutti gli animali da reddito purtroppo al macello, il veterinario Marco Verdone insieme al precedente direttore del carcere Carlo Mazzerbo avevano immaginato un percorso diverso che consistesse invece nel fare di questi animali compagni di una relazione e non merce e non prodotti da macello. Purtroppo col trasferimento di Verdone e di Mazzerbo questo progetto è stato abortito oltre un anno fa, il macello ha iniziato a funzionare e tutto questo ha un impatto evidentemente oltre che sul destino degli animali anche sul destino dei detenuti presenti sull'isola perché è abbastanza evidente che in un posto dove si intende rieducare la non violenza è assai contraddittorio avere una pratica quale quella dell'uccisione in un macello che è intrinsecamente violenta. Quindi in sintesi quello che chiediamo è la ripartenza del progetto, l'abbandono immediato delle macellazioni e noi siamo assolutamente disponibili a collaborare in questo con le autorità competenti.